Negli ultimi dieci anni il fotovoltaico ha fatto passi da gigante e le nuove tecnologie ne hanno favorito un'ampia diffusione. Tuttavia vi sono molti problemi che impediscono agli impianti solari di diventare fonti di energia ideali. Un mismatch tra pannelli può causare perdite di energia nell'impianto e il controllo è insufficiente per gestire efficacemente i sistemi. Per di più la presenza di alta tensione è fonte di preoccupazione per la sicurezza. Inoltre i moduli fotovoltaici esposti agli agenti atmosferici per 30 anni possono essere soggetti a ombreggiamento, sporcizia, deterioramento del silicio, gradienti termici e altro ancora. Si comprende facilmente l'impatto che tutto ciò esercita sulla quantità di energia prodotta da un impianto. Taigo ha sviluppato una tecnologia innovativa che risolve questi problemi inglobando l'intelligence ai singoli moduli. Come una batteria anche i moduli solari sono collegati in serie. Quando tutti i moduli producono la stessa quantità di energia il funzionamento del sistema è ottimale. Tuttavia un modulo con prestazioni inferiori non solo produce meno energia, ma riduce anche la produttività degli altri moduli della stringa. I moduli solari sono come condutture. Quelli ben funzionanti sono la conduttura più larga, quelli meno efficienti sono la conduttura più stretta. Dopo il collegamento la conduttura stretta restringe il flusso di energia attraverso l'impianto, perdendo potenza e sorrescaldando il modulo. Ne conseguono significative perdite di energia e danni al pannello. Taigo Energy Maximizer Rettifica i mismatch tra i moduli grazie all'adattamento di impedenza e al controllo a livello di modulo. Il Maximizer realizza tutto ciò aprendo un tunnel finalizzato a bypassare una parte del flusso intorno al modulo. Il diametro del tunnel può essere programmato affinché si apra quel tanto che è necessario. Il modulo con una prestazione inferiore continuerà a erogare potenza alla stringa, senza però limitare il flusso degli altri moduli. Taigo Energy Maximizer impedisce che le basse prestazioni dei moduli limitino la produttività degli altri pannelli. L'impianto è in grado di generare fino al 20% di energia in più. Un altro problema è la manutenzione degli impianti. I sistemi standard monitorano solo la produzione di corrente alternata. Le informazioni così ottenute non bastano per individuare i problemi e gestire la produzione di energia. Ad esempio, un frisbee potrebbe influenzare le prestazioni del sistema, ma senza dati a livello di pannello, il proprietario dell'installazione potrebbe non accorgersene per mesi. Taigo Energy offre una visibilità sull'impianti senza precedenti. In caso di problemi, Taigo Energy notifica al gestore o al proprietario dell'impianto la necessità di un'azione correttiva. In questo modo si elimina la manutenzione periodica generale. È il sistema stesso che previene gli interventi. I proprietari del sistema possono così intraprendere azioni mirate e con maggiori possibilità di successo. I rapporti di manutenzione su richiesta consentono di intervenire direttamente sulle aree affette, tagliando i costi di operation e maintenance. Gli addetti arrivano sul posto con strumenti adeguati per la sostituzione, completando l'intervento in tempi rapidi. I proprietari di diversi impianti possono gestire ogni installazione dal medesimo sito centralizzato. Col tempo, queste analisi aiutano a perfezionare e ottimizzare il design e lo sviluppo di nuovi progetti. Motivo di preoccupazione è anche la sicurezza personale in fase di installazione, manutenzione o in caso di incendio. Gli impianti solari producono potenza sul contatto di corrente continua in fase di irraggiamento, ma il contatto non può essere disattivato. Quindi l'alta tensione rimane sul tetto, anche dopo aver disattivato gli interruttori di corrente continua e il proprietario, gli installatori e i vigili del fuoco sono esposti alla corrente elettrica. Tygo Energy limita l'esposizione all'alta tensione e riduce i rischi grazie a funzionalità di sicurezza uniche nel loro genere, disattivazione remota o sul posto di ciascun pannello e individuazione di archi elettrici. Premendo il pulsante PVSafe della Management Unit, Tygo Energy disattiva ogni modulo. In questo modo si toglie corrente all'impianto e rimane solo la produzione di bassa tensione in un unico pannello solare. Tygo Energy Maximizer offre il minore impatto elettronico nel settore, la migliore efficienza attestata al 99,5% e il controllo più affidabile a livello di modulo. Tygo Energy Maximizer funziona con tutti gli inverter e pannelli più diffusi. Se combinata alle migliori tecnologie, questa soluzione fornisce la massima efficienza di sistema e di raccolta energia rispetto a qualsiasi soluzione fotovoltaica. La soluzione Tygo Energy è certificata e conforme alle normative vigenti in Europa, Nord America e Asia. Integrando l'intelligence sviluppata da Tygo Energy nell'impianti, installatori, produttori e PPA sono in grado di generare nuovo valore per chi investe in progetti su scala commerciale, residenziale e industriale. Per saperne di più su come migliorare il vostro progetto solare con Tygo Energy, contattateci!